Magari, lo sapete già, ma è uscito un nuovo direct per Yokey Watch, ovviamente fanmade, sul canale di TheLGameZ. È un direct tradotto anche in italiano, quindi è doppiato in italiano e... Beh, andiamolo a vedere. Se è minuti di contenuti, dovrebbe essere tanta roba. Vediamo che ci dice. Dovremmo avere nuove info sul fangame. Il che non sarebbe una cattiva cosa. All right, vabbè. Ci sta l'intro. Ah, ok. Magari è solo tradotto... Pensavo fosse doppiato, da quello che ho capito. Sette aggiornamenti! Oh, l'aggiornamento sul fangame. Meglio di questo che vogliamo. Yokey Cards è un progetto fanmade di Yokey Watch, fatto dai fan e per i fan. Questo progetto prenderò con Yokey Watch 1, 2 e 3. Puoi giocare, scambiare, lottare e scoprire moltissime cose. Eh, bello! Ci informazioni nel prossimo Fan Direct. Il nostro prossimo annuncio sarà un progetto che farà emozionare molti fan. Yokey Watch Randomizer da Teeny Fan. Con questo modo potrete randomizzare Yokey Watch 1 per 3DS e in cui... Che sa, è quella che sto facendo io al momento. Trova Yokey Watch ma in modo completamente rimescolato. Fan di Yokey Watch tedeschi? Ecco a voi. La patch tedesca di Yokey Watch 1 per Nintendo Switch. Ah, beh. Beh, beh, beh. Che dire. Basterebbe prendere i testi da quello del DS e metterli qui, anche se in realtà so che sono stati rivisti. Chi è? Si è corrotto tutto. Yokey Watch 4. Ah, beh, ovvio. È molto chiacchierato nella comunità delle traduzioni fan. Quindi in tedesco. Beh, ci sta. E sta in lavorazione in alcune lingue. Ma guarda, io l'ho finito senza guide. È stato difficile. Ho seguito qualche video giapponese per capire come fare ma in realtà non ti dicevano niente. Ce ne sono tanti ma nessuno ti dice niente veramente come fare. Oddio, 20%. Ce n'è di roba, dato che è un gestionale. Però... Lo spreadsheet su Yokey Watch 3 è iniziato dal Nerd in Almora e il suo Geo Shrek sarà in sviluppo di modo grazie a Gettinan 234 che farà una tier list competitica nel prossimo Direct. Competitica. Oh, no. Oh, no. A parte la orecchia solo sta a sinistro. Dopo ci penso io. in quattro ore come in quattro ore è rotto allora quel gioco ho un modo per romperlo forse ho un perso tempo io nel gioco non lo so vabbè quindi tradotto in inglese e questo è quanto poi il gioco fangame su eccolo dai 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 informazioni magari i frame che sono un po' lenti disastri naturali ci sono state alcune perdite di dati e di elettricità disastri naturali questo è grave quindi per questi problemi non è possibile mostrare un gameplay completo di questo gioco ma vi promettiamo un gameplay nel prossimo fan direct il titolo di questo gioco è yokai watch the forgotten king va bene capisco il titolo ma disastri naturali dimmi non abbiamo niente di pronto ci credo di più ripongo fiducia nel prossimo direct questo è no questo proprio no non c'è niente di nuovo cioè ci annunciano gli ok watch cards però ve lo facciamo vedere un'altra volta vabbè il fan game invece è ancora in lavorazione abbiamo la storia e tutto però disastri naturali no dai non vi dire disastri dimmi non abbiamo avuto il modo di lavorarci a pieno e quindi ve lo facciamo vedere la prossima volta cioè quindi il prossimo anno ci vediamo allora con il fan direct sperando che effettivamente per il prossimo direct ci siano non dico per forza il gioco delle carte che potrebbe essere interessante ma quanto meno il fan game The Forgotten King che mi sembra potrebbe cioè dal titolo mi sembra intrigante poi magari non è però intanto almeno vediamo qualcosa vediamo com'è speriamo daglie daglie tutta vi lascio in descrizione il canale di Al Gamesy del direct insomma li trovate tutto quanto lì e niente ci vediamo alla prossima bye bye